Agosto A-G-O-S-T-O Ciao ragazzi Grazie di essere qui con me oggi Benvenuti in un nuovo video di chiacchiere, 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 chiacchiere Come vedete dal mio viso c'è caldo Tutta sudata Vabbè Però adoro lo sfondo qui dietro Le luci le patate le adoro E adoro tanto anche lo sfondo bianco E adoro tanto anche lo sfondo bianco Non so perché in realtà piace molto di più lo sfondo nero personalmente Se è appunto non troppo luminoso Oggi sono tornata con questo microfono dopo tanto tanto tempo E con anche un t-pop peloso E Oggi sarà un video super semplice di chiacchiere, di aggiornamenti Prima sul canale E Il mio computer sta facendo molto casino Sta mezzo morendo Non so, ultimamente Ha veramente tanti tanti problemi Io sono preoccupata E Subirete anche la ventola Fate finta che sia un vento Fresco, fresco, fresco Che vi investe Freschissimo Polare Gelido E Niente A parte questo Appunto aggiornamenti sul canale Aggiornamenti Questo di me Dopo Nel caso Se ci sarà tempo Allora Comincio appunto con l'aggiornamento più importante Quello che un po' mi riguarda Di più Sul canale Ed è riguardante il mese di Agosto A G O S D O Il mese di Agosto Il mese estivo per eccellenza Il mese di vacanze Per eccellenza E vacanze Uguale Meno YouTube Meno tempo su tutti i social Meno tempo soprattutto su YouTube E Meno giga Meno giga E Questo vuol dire anche per me Meno tempo di visualizzazioni Meno visualizzazioni Tutto quanto Agosto è un mese di vacanze anche per me E adesso Abbiamo avanti Abbiamo avanti il video Vi dirò anche dove andrò E sono Contentissima E Chi mi segue già dall'anno scorso Saprà o forse si ricorderà O da due anni Tre anni Chi è ad agosto Sempre ha fatto una pausa O Almeno Ho sempre arrendato il ritmo Cioè fatto un video settimana Al posto di due video settimana Come sono solita fare Infatti carico video ogni Lunedì E Venerdì Alle Diciannove E Trenta Non scordatevelo In tantissimi Ve lo chiedete Ogni volta E c'è sempre scritto giù in descrizione Ok E Quest'anno Volevo fare un po' diverso Non volevo lasciare il video con solo un video Il canale con solo un video settimana Ma Ho pensato Di fare Dei video Più semplici E più corti Ma di farli uscire appunto Due volte a settimana Come As usual Come al solito Non so Mi Mi sembra un po' più Carino anche per chi starà a casa Perché vedi voi mentre vai Voi vai Vorrà comunque vedere i video Per la necessità di vedere i video Anche se Io ho più di Quattrocento Quattrocento Video sul canale E penso che Non li abbiate visti tutti No 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 Però Capisco che i nuovi contenuti Sono sempre più allettanti Quindi Non mi voglio lasciare senza contenuti Però Appunto Ci saranno video Più semplici E più corti Sono assolutamente sicura che Qualcuno nei commenti Vi avrà a dire Chi ama ma perché Attivamente I miei video sono così corti Io dirò L'avevo detto Se non ascolti It's not my fault Faccio un po' Faccio un po' L'abbi di blocker Mezzo in presa A parte gli scherzi Il caldo mi sta un po' facendo Troppo in testa Questa è la prima cosa Quindi Ad agosto Ci saranno i soldi 8-9 video Non so Insomma comunque 2 settimane Sembrano i via Venerdì alle 19-30 Ma saranno più corti Più semplici Altra cosa E Riguardante Il canale E appunto Visto che ci sono Le vacanze Imminenti Vi caricherò Direi che se riesco Lo faccio Oggi Lo finisco domani Vi caricherò Tei brani su Spotify Oggi è lunedì Comunque Per venerdì Quando lo starete guardando Questo video massimo Per lunedì Saranno Dovrebbero essere online Di nuovi brani Su Spotify Saranno proprio Gli ultimi ultimi video Che ho caricato Questo in realtà perché Ho perso La chiavetta Che conteneva Tutti gli altri miei video E quindi ho solo Quelli recenti Con la chiavetta nuova Vabbè Sorvoliamo Vi piace questo trigger? Ok Per essere aggiornati su tutti i video che usciranno Se ci sarà un ritardo nel video O in generale per scegliere i video che usciranno Per darmi delle idee su nuovi video Per darmi delle idee su nuovi video Seguitemi su Instagram Mi trovate come chiara.sml Tutti gli altri sono falsi Vabbè Vabbè Sono sicura ci fosse un'altra cosa Per il canale È abbastanza certa Ah sì Niente un'altra Questa è una chiacchiera sul canale Diciamo così Avrei voluto fare tanto questo video con il Tascam Che per me è il microfono Per i sussuoli Per i sussuoli Purtroppo Penso che il mio Tascam Non va Mi ha dei problemi Sento un fruscio di sottofondo Fortissimo 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 E quindi ho deciso che appena riuscirò Probabilmente a settembre 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 Comprerò il suo fratellino di più alta qualità E cioè il Tascam TR40 Che mi piace tantissimo E che non mi trovi di avere nella mia collezione di microfono ormai Altro microfono che secondo me Si è abbastanza rotto Cioè almeno Non va da una parte È l'SR3D Ovvero il microfono con le orecchie Le orecchie Giulo bianco Anche questo penso abbiamo un problema Un microfono di un orecchio Purtroppo Ripararlo Costa praticamente Come la metà del microfono stesso E quindi Penso che anche lì Prima o poi ne compriamo un nuovo Non penso di quella marca Perché tutto sommato Trovo che ci siano microfoni miei Che migliora lo stesso prezzo E mi dispiace Magari proverò ad usarlo un'altra volta Per vedere Se migliora qualcosa Non so E Però insomma È previsto anche l'acquisto di un altro microfono ancora Sperando vivamente che il mio computer non mi lasci A piedi Se no Dovremmo rimandare l'acquisto di tutti questi microfoni Purtroppo Ok Chiacchiere Sul canale finite Qui Ho una cosa che non vi ho mai fatto vedere Ed è la scatola con molti dei miei trigger Che erano molti dei miei oggetti di scena La collana blu La zombella Due gelatini La mascherina Da medical Un mascara Un oggetto che prima o poi userò Cioè Una finta Bomb Si chiama Tralash Volevo vendere a chi lavo un po' in realtà dei miei progetti Per Le rimanenze dell'estate Volevo fare un po' di suoni Dite che questo ci convince Volevo fare il gelatino però potremmo provare questo suono Proviamolo un po' lontano nel microfono Sembra Sembra tipo scotch Non lo so Spero vi piaccia Non mi convince però Ditemi se vi convince Cioè E farò un bilanere con questo Oggi volevo Fare un po' di suoni col gelatino Perchè era da tanto che non l'utilizzavo E mi mancava tanto l'odore Con il doppio gelatino Sapete chi ha il doppio gelatino Comunque 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 Adesso Adesso farò un altro viaggio grosso Dico super Che sono emozionatissima Ma sono la mia prima volta In un altro continente ancora Dal mio video sulla Namibia Molto insomma Appunto io sono andata in Africa appunto E' stato il mio primo continente Visitato al di fuori dell'Europa Io ho sempre sentito che sarebbe stato quello alla fine Perchè Non lo so Mi è sempre Mi è sempre attratto più di tutti l'Africa Ho sempre avuto qualcosa in più E sempre l'avrò appeso Come per alcuni in Asia Come per alcuni in America E come per alcuni in Europa E l'Oceania Che bello Appunto Abbiamo optato per un'altra meta Che in realtà adesso sta cominciando a essere abbastanza comune Il mio computer fra un po' prende fuoco Poverino Lo sentite? Ciao E' abbastanza avventurosa Chi è? La Malesia Sono estracarica Ma non faremo il solito viaggio Nella Malesia Almeno in parte si Diciamo che andremo al mare come tutti Alle Perenzian Non vedo l'ora Non vado al mare Veramente Non al mare di regione Da tantissimo tempo Tipo da tre anni Da quando sono andata in Sicilia E mi manca un po' comunque Stare in spiaggia A vedere un mare veramente bello E non vedrò di essere sotto il barbe di cocco Ecco Poverino C'è il mostratissimo Non so se potete capirlo Probabilmente si E E poi faremo il borneo Nel borneo Borneo Nel borneo Nel borneo Nel borneo Questo c'è casino Stupido cane Nel borneo Cioè nella giungla Ma faremo anche due gite al mare Ma sono troppo 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 carica Mi dispiace che non avremo per vedere né tempi né niente C'è la parte più Asiatica Più Più Spirituale Tutto quanto Non la faremo Faremo molto la parte naturale E Che è la cosa che però ci ispira di più in questo periodo Quando ho detto al mio ragazzo che voleva andare in Malese Mi ha detto ok Però facciamo povermi Ha detto va bene Giusto E Niente sono Troppo carica Allora Partiamo il primo di agosto E torniamo il diciotto E faremo anche la scala a Dubai Mi dispiace perché facciamo lo scalo grosso di 10 euro a Dubai all'andata Questa non me la sento riuscire Allora Poi a Dubai penso Ci andrò anche solo 3 giorni Sì E per il weekendino Poi a Dubai Ok Direi che il caldo mi sta decisamente non nella testa Quindi penso che per voi e per me sia giunta l'ora di abbassare le luci Tutto 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 E augurarvi una buona 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 notte Sogni d'oro Sogni d'oro buonanotte, sueñe duro good night, sweet dreams buonanotte, buenas nottes tu se sueña bonnui, bonnui good night, good night buonanotte, pasticcini un bazzone che li supera